Ciao a tutti ragazzi, sono GaspBuster, benvenuti in questo quarto episodio della Technic. Adesso sono sceso fino al livello 5, per cercare immediatamente dei diamanti. Spero di riuscire nel mio intento. Grazie a tutti. 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 Adesso salto il pezzo in cui continuo a scavare e riprendo quando trovo dei diamanti. Ecco. Ho trovato un blocco da 8 diamanti. Molto 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 bene. Grazie a tutti. 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 Porcaccia la miseria ladra, mi ero dimenticato della selce, Limp. Adesso vado a prenderlo nella casa, naturalmente vi risparmio il viaggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.